Di fronte a studenti e insegnanti di alcuni istituti scolastici dell'Umbria, i magistrati Pier Camillo Davigo, Fausto Cardella e Salvatore Sfrecola hanno parlato della piaga della corruzione che, come è emerso nel corso del convegno tenutosi a Palazzo Cesaroni nell'ambito della campagna di educazione alla cittadinanza, ha raggiunto livelli elevatissimi. Dopo Tangentopoli, ha detto Davigo agli studenti, sono scomparsi cinque partiti ma il problema si è acuito. Nonostante i nostri sforzi, abbiamo involontariamente migliorato la specie, creato ceppi resistenti agli antibiotici. L'intervento giudiziario da solo non basta, le pene sono basse, frutto di scelte politiche che avvantaggiano soggetti abituati a valutare costi e benefici, che quando vengono presi se la cavano nel 98% dei casi con meno di due anni di reclusione, quindi in galera non ci va nessuno e sopra i tre anni c'è sempre l'indulto. Questo per una serie di ragioni molto complesse, la principale delle quali è che non si è fatto mai nulla seriamente per prevenire e reprimere questo fenomeno, al di là dell'intervento giudiziario, che però da solo ovviamente non basta. Quindi da Mani Pulite ad oggi non è cambiato niente? No, è cambiato molto, in peggio. Agli studenti che hanno chiesto cosa si può fare per cambiare la situazione, Davigo ha detto che occorre informarsi e manifestare la propria preoccupazione, la propria contrarietà, ricordarsi di essere cittadini e pretendere il rispetto delle regole. L'opinione pubblica deve essere vigile anziché indifferente. Una scelta etica è indispensabile. Occorre fare con fermezza e coraggio quello che si è chiamati a fare, sicuri che agendo così il mondo non potrà che andare meglio. Fausto Cardella ha detto che la corruzione non è un fenomeno soltanto italiano, ma la differenza è che in Italia a volte si fanno opere soltanto per produrre una tangente. Cardella, che ha operato in Umbria per diversi anni e continua ancora a mantenerci la propria residenza, ha fatto rilevare che in Umbria i problemi ci sono, ma a differenza di altre zone, qui la corruzione ha un carattere episodico, circoscritto, non c'è diffusione in tutti i gangli della pubblica amministrazione. Questo dipende, ha spiegato dall'opera di vigilanza delle forze dell'ordine, ma anche da un vero primato dell'agente Umbra. Come emerso nelle ultime operazioni contro la criminalità organizzata, i cittadini denunciano. Non c'è l'omertà riscontrabile in altre zone. L'Umbria è, lo dico con affezione, ma anche con la ragione, è una regione meravigliosa. Più giro l'Italia, più mi confermo in questa situazione. È una regione che ha dei problemi, ovviamente, come tutti. È una regione che ha le sue criticità, però ha una qualità di vita che è veramente eccezionale. E credo che questo dipenda soprattutto dagli Umbri, cioè dalla gente, da voi, diciamo, da come vi comportate. Ecco, qui i cittadini hanno un buon senso della società. Adesso non voglio usare paroloni dello Stato, della morale, però sono gente laboriosa e gente seria. All'iniziativa hanno partecipato docenti e studenti dell'Istituto Professionale per i Servizi Commerciali Marco Polo di Bastia Umbra, dell'Istituto Rosselli Rasetti di Castiglion del Lago, dell'Iceo Scientifico Galeazzo Alessi, dell'Istituto Bernardino Di Betto, dell'Istituto Tecnologico Statale Alessandro Volta e dell'Istituto Comprensivo Perugia 12 di Ponte San Giovanni e infine l'Istituto Capitini di Perugia.